Mamma, mamma, Kinder Sorpresa! Quante cose vogliono i bambini? Ma non sono sempre capricci. Spesso è la loro voglia di scoprire, di giocare, per crescere. Per questo non gli faccio mai mancare Kinder Sorpresa. Kinder Sorpresa stimola la sua fantasia e la sua voglia di conoscere con un gioco sempre nuovo che nasce tra le sue mani. E il cioccolato? È Kinder, con più latte e meno cacao. La scoperta, il gioco, il cioccolato. Con Kinder Sorpresa esaudisci tre desideri in una volta sola.